Benessere senza glutine, una realtà tutta dedicata alle intolleranze alimentari e una finestra aperta sul mondo del biologico e del senza glutine. Da Benessere senza glutine troverai una vasta e attenta selezione di alimenti delle migliori marche e di aziende per lo più ad impronta artigianale senza glutine, senza però rinunciare al gusto. Da Benessere senza glutine inoltre troverai un vasto assortimento di prodotti surgelati dolci, panificati e di pesce. Vieni a scoprire le novità, le promozioni mensili e anche la Fidelity Card presso il punto vendita in via nazionale 116 a Melito di Porto Salvo. Si accettano buoni del Servizio Sanitario Nazionale. Benessere senza glutine, perché la tua salute è la nostra priorità.